Ciao a tutti, oggi guardiamo alcuni accorgimenti da adottare quando si deve progettare un vigneto meccanizzabile. La larghezza delle cappessagne deve essere di almeno 6,5-7 metri per garantire l'agevole svolta delle attrezzature e consentire l'operazione di scarico delle vendemmiatrici. L'altezza dei filari non deve superare i 2,30-2,40 per essere compatibile con le vendemmiatrici diffuse nel nostro paese. La distanza tra i filari, generalmente compresa tra i 2 e 3 metri, deve tenere in considerazione il passo dei trattori e la larghezza delle attrezzature. In collina deve tenere in considerazione anche eventuali contropendenze che potrebbero dare origine a slittamento. La lunghezza dei filari, per motivi di stabilità, è generalmente compresa fra 200 e 300 metri. In ogni caso deve essere correlata anche con la produttività dell'impianto per evitare di avere i tank delle vendemmiatrici pieni a metà del percorso. Qualora si voglia meccanizzare anche la potatura invernale, la scelta del sistema di allevamento dovrà per forza ricadere tra quelli a cordone permanente, come cordone libero, CLST, casarsa, cordone speronato, siepe o doppia cortina. Nell'impostare la distanza tra le piante sulla fila, si deve considerare che al di sotto dei 70 cm diventa più complicato e lento l'impiego delle attrezzature in terceppo. Lo stesso discorso vale anche per la distanza tra le piante e i pali. I filari devono essere orientati a gruppi di 3-5 nei due versi opposti per dar modo alle attrezzature di operare rispettando il senso di sviluppo dei germogli. I tutori devono essere robusti per dare solidità all'impianto e per reggere gli urti dei tastatori e degli scuotitori delle vendemmiatrici. Il tutore deve sporgere il minimo indispensabile dal filo portante per non costituire un ostacolo al momento dell'esecuzione della potatura meccanica. Un robusto ancoraggio e la presenza di tirafili sono indispensabili per mantenere l'impianto in tensione. Viti perfettamente allineate e tronchi verticali sono molto importanti per facilitare l'azione delle macchine ed evitare rotture. L'inerbimento è importante per consentire l'ingresso delle macchine anche con terreno non perfettamente asciutto. Una superficie del terreno perfettamente piana è importante per consentire alle macchine di operare con velocità e precisione. L'altezza del filo portante deve essere compatibile con la lunghezza dei capi a frutto che vengono lasciati con la potatura meccanica per evitare che i grappoli si trovino troppo vicino al terreno. Ovviamente dovremo scegliere dei pali che oltre a garantire la stabilità dell'impianto siano resistenti agli urti e all'usura. Nel caso del cordone libero e del CLST, cordone libero speronatura totale, il filo deve essere montato sulla testa del palo in appoggio per evitare di avere ostacoli durante l'esecuzione della potatura meccanica. Se pensi che il video ti sia stato utile lasciami un like ed iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Ciao a tutti alla prossima.